Benvenuti nel mondo degli orologi Milius. Milius è un marchio di orologi svizzero che ha una lunga storia nell'orologeria di lusso. Fondata nel 1919 a Bienn, nella regione di Berna, l'azienda è famosa per la sua attenzione ai dettagli e alla qualità, con un'esperienza di quasi un secolo nel campo della produzione di orologi di alta qualità. La filosofia aziendale di Milius è quella di creare orologi di lusso che durino nel tempo, con un design senza tempo e un'artigianalità svizzera di altissimo livello. Grazie alla sua attenzione ai dettagli e alla qualità, il marchio è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di orologeria di tutto il mondo. Una delle collezioni più famose di Milius è la Tyrion Contri Retrograd, caratterizzata da un design innovativo e sofisticato. Gli orologi di questa collezione sono dotati di un movimento automatico svizzero di alta precisione e di funzioni come il cronografo e il calendario perpetuo. Inoltre, la caratteristica distintiva di questa collezione è la complicazione di retrogrado, che consiste nella rappresentazione dei minuti tramite una sfera dedicata. La lancetta, compiendo un arco di circonferenza, percorre i 60 minuti ed una volta arrivata a fine corsa ritorna al minuto zero. La Tyrion Tri Retrograd è perfetta per gli appassionati di orologi che cercano un pezzo unico e originale. Milius ha anche una collezione chiamata Erios, ispirata alla mitologia greca e caratterizzata da un design elegante e raffinato. Gli orologi di questa collezione sono dotati di movimenti automatici svizzeri di alta precisione e di funzioni come il calendario perpetuo e il cronografo. La Erios è perfetta per chi cerca un orologio elegante e raffinato adatto ad ogni occasione. L'azienda offre anche una vasta scelta di edizioni speciali, come la Snow Star, originariamente creata negli anni 40 e progettata per i piloti della Marina degli Stati Uniti. In conclusione, Milius è un marchio svizzero di orologi di lusso noto per la sua attenzione ai dettagli e alla qualità. Grazie alle sue collezioni innovative e al design elegante e sofisticato, Milius offre una vasta scelta di orologi per soddisfare le esigenze degli appassionati di orologeria di tutto il mondo.